cavallo e va fatta con molta delicatezza perché se gli dai sul tronco scivoli bravo le scorciatroie azzarda dai Michele riprovala studia il percorso va che asfaltata che andiamo a su giù mi piace avevo le pedivelle messe a spioventi così quindi se ti mandano lo sistemate il bisbettico domato